E adesso parliamo in questo spazio di approfondimento con Elisabetta Foschi, consigliere regionale del PDL e del referendum su Marotta Unita. Perché? Perché questa mattina c'è stata una novità, si è presentata una novità, adesso sentiremo anche qual è questa novità che riguarda appunto questo referendum, referendum che fino a ieri era sospeso, era stato sospeso dal Tar. Allora buonasera Foschi, cerchiamo di far capire bene ai nostri telespettatori che cosa è successo questa mattina nel corso del consiglio regionale al quale ovviamente lei ha partecipato in qualità di consigliere del PDL. Questa mattina c'è stato quello che lei ha definito un blitz, nel senso che nessuno se l'aspettava, cioè il presidente Solazzi a un certo punto ha preso la parola e ha proposto a tutta l'assemblea di votare una proposta a firma di un consigliere, mi venga incontro in aiuto, Traversini del PD, esatto, il quale ha proposto, eccola qua, la proposta ce l'ho in mano, una proposta di deliberazione per modificare un po' il referendum che appunto dovrà chiamare nelle prossime settimane i cittadini a esprimersi se vogliono rimanere sotto il comune di Fano oppure passare sotto il comune di Mondolfo. Perché ha parlato di blitz? Perché non ve l'aspettavate questa uscita del presidente Solazzi e questa proposta di Traversini? Certo perché i lavori del consiglio regionale sono organizzati in base a un ordine del giorno che ovviamente i consiglieri regionali hanno giorni prima e quindi si sa quando vai in consiglio regionale quali leggi sei chiamato a discutere di modo che giustamente hai la possibilità di studiarle le leggi, di magari emendarle, di discuterle. Questo oggi non è avvenuto, la proposta di referendum non era inserita nell'ordine del giorno, lo si può verificare facilmente su internet, ma cosa ancora più anomala è che talvolta capita che il consiglio regionale vota l'iscrizione d'urgenza di un argomento, però è un argomento che magari è stato già discusso dalla commissione qualche giorno prima. Questo argomento è stato discusso in commissione ieri sera e non era inserito nemmeno nell'ordine del giorno della commissione. Quindi è stato infilato, come dire, d'urgenza all'insaputa. Senza che nessuno lo conoscesse, noi questa mattina non avevamo il testo. Però perché secondo lei questa tempistica che lei definisce sospetta in qualche modo? Sì, è decisamente anomala. Io faccio presente che il referendum era stato sospeso dal Tar ad aprile, quindi c'era volendo il tempo per arrivare a una nuova proposta con serenità e calma. Siamo arrivati oggi con un blitz perché se si fosse slittato di una settimana, però ci si poteva organizzare meglio, il referendum non si sarebbe potuto tenere entro la fine dell'anno e nei mesi primi del 2014 sarebbe stato altresì impossibile perché ci sono le amministrative di Fano e quindi c'era l'interesse di qualcuno di far svolgere il referendum prima delle amministrative di Fano. Allora, è inutile dire che questa proposta è stata approvata, qui ho l'enco dei favorevoli, sono 26 favorevoli, 7 contrari, vi possiamo dire anche chi sono i contrari, Quaroli, Camella, Donati, Foschi, Malaspina, Marconi e Zinni. Lei è l'unica fanese della provincia che ha votato contro, qualcuno dirà, beh è facile, lei è anche la moglie del sindaco, il sindaco di Fano sapete benissimo è contrario a che Marotta di Fano passi sotto il comune di Mondolfo, quindi il comune di Fano ha fatto ricorso al TAR, il TAR l'ha accettato questo, quindi si è espresso favorevolmente al comune di Fano e quindi ha sospeso questo referendum. Stando così le cose, quando si andrà a votare dunque? Si andrà a votare verosimilmente attorno al 20 di dicembre, adesso non ho presente bene il calendario, ma una domenica, un sabato una domenica o una domenica un lunedì. Le dico anche che la mia posizione è dettata da questo, ritengo che quando il legislatore fa una legge lo debba fare con la massima imparzialità e non favorendo soltanto una delle parti interessate. Allora, diciamo che la precedente legge, quella che era stata approvata dalla legione, prevedeva che a votare fossero soltanto i residenti di Marotta di Fano. In questo caso, con la modifica che è stata approvata questa mattina, la base è stata allargata e quindi potranno il 20 di dicembre, ammesso che sia il 20, andare a votare a questo referendum anche i residenti di Marotta di Mondolfo e Ponte Sasso. Come dire, probabilmente la cosa potrebbe passare perché questa gente, questi residenti sono favorevoli a passare sotto il comune di Mondolfo. Voi invece chiedete che cosa? Di far votare anche o di allargare comunque la base? Il comune di Fano chiedeva che fossero tutti i residenti di Fano a votare. C'è stata una sentenza, un pronunciamento del TAR quando ha sospeso l'atto precedente perché ha ravvisato un difetto di istruttoria e ha detto sostanzialmente alla regione guarda non puoi far votare il referendum solo ai marottesi di Fano perché così è sostanzialmente facile prevedere come va a finire e non tuteli anche gli interessi delle altre popolazioni di Fano che vertono in qualche maniera per servizi, per strutture, infrastrutture su Marotta. Quindi il TAR, e ci tengo a leggerlo, aveva proprio detto nella sua sentenza che pare emergere un difetto di istruttoria nel circoscrivere il referendum ai soli residenti della località in questione, Marotta di Fano e che verosimilmente determinerebbero una conclusione favorevole della consultazione anziché estenderlo ad altri residenti nel comune di Fano che potrebbero determinare un risultato diverso quali ad esempio quelli residenti nelle frazioni limitrofe. Quindi il TAR aveva detto non puoi solo circoscrivere a quelli che verosimilmente sono a favore ma anche ad altri che sono interessati per i servizi. Ponte Sasso e Marotta di Mendo. Sì, il problema è che non hanno inserito solo Ponte Sasso che è la frazione di Fano che ha interesse e che nessuno sa come potrebbe esprimersi perché un conto è dire tutto il comune di Fano e verosimilmente quello potrebbe significare un vantaggio del nome però sugli altri no. Loro però hanno preso la popolazione di Ponte Sasso e numericamente hanno, diciamo così, pareggiato inserendo un'altrettanta popolazione di Marotta di Mondolfo che non è un segreto per nessuno è più Marotta di Mondolfo che vuole l'unificazione di quanto non sia la parte fanese. Quindi è come dire, al TAR, guarda, la raccomandazione... È come dire, questa proposta è stata fatta un po' su misura, diciamo, più verso per favorire quelli del Comitato Marotta Unita che sono favorevoli al passaggio di Fano. Io penso di esprimere un pregiudizio perché le dico anche questo di questo blitz in data odierna che nemmeno i consiglieri conoscevano la stragrande maggioranza dei consiglieri non lo sapeva non lo sapeva il sindaco di Fano che pure parte in causa non lo sapeva, almeno a quanto mi risulta, il Comitato Cittadino Mondolfese che aveva fatto ricorso insieme a Fano e Mondolfo Unita, il Comitato Fano Unita lo sapeva il Comitato di Marotta Unita che, guarda caso, era presente in aula ancora prima dell'arrivo dei consiglieri. Allora, è vero che uno può avere un sospetto ma poi c'è anche un sospetto suffragato dalla presenza di queste persone. Voglio dire, ma questo probabilmente lei lo sa non lo sanno invece i nostri telespettatori glielo diciamo adesso, che il sindaco di Fano oggi pomeriggio è intervenuto dicendo che se ci saranno le condizioni comunque presenterà un nuovo ricorso al TAR e poi staremo a vedere. Grazie Elisabetta Foschi del suo intervento. Adesso noi ci lasciamo per un attimo di pubblicità restate con noi, tra poco rientreremo per vedere se ci sono ultime notizie.